Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, credo che mai come in questa occasione, come era stata anche nella partita precedente, non è un modo di dire, non è un modo di essere signori a tutti i costi, si tratta di essere realisti, di guardare di fronte alla realtà, di aver visto la partita soffrendo, forse magari si può pensare che non sia abbastanza sereno dopo una tensione di questo tipo qua, invece lo sono nella valutazione, perché noi abbiamo cercato di reagire, abbiamo dato sicuramente dal punto di vista della negazione, della volontà, tutto quello che avevamo. Non siamo stati perfetti dal punto di vista tecnico e delle scelte, cosa che invece i nostri avversari hanno fatto, tant'è vero che hanno avuto quasi sempre il controllo, anche quando magari non facevano canestro, quando la partita era in equilibrio, sapevano sempre cosa fare, noi siamo andati molto, abbiamo bisogno, ma d'altra parte questa è un pochino la storia nostra, abbiamo bisogno di ritmo e quando siamo riusciti ad avere ritmo e aggredire in difesa abbiamo preso anche un buon vantaggio, poi quando non siamo più riusciti a farlo e siamo stati costretti a giocare contro la loro difesa schierata, soprattutto la loro difesa zona, abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto fatica a organizzare il gioco, a trovare soluzioni di tiro ottimali e questo poi ci hanno esposto dal punto di vista difensivo contro le loro scelte e quindi dispiace, è chiaro che siamo tutti molto mareggiati, ci dispiace uscire veramente a un passo dalla finale, che se è vero che Reggio Emilia se l'è meritata e credo che altrettanto ce la saremmo meritata noi per ciò che abbiamo fatto in questo campionato, per ciò che i ragazzi sono stati capaci di fare andando spesso sopra a quelle che erano le nostre carenze, che sapevamo di avere e che siamo riusciti a mascherare spesso, altre volte come oggi non abbastanza, però pensando a dove siamo partiti dobbiamo essere veramente orgogliosi, adesso oggi chiaramente è più facile per me che ne ho passate tante, che non per i ragazzi che sono in spogliatoio veramente dispiaciuti, però l'ho detto a loro, lo ribadisco qua, adesso dispiace, siamo mareggiati, siamo arrabbiati e non abbiamo la serenità per fare una valutazione globale, tra qualche giorno, magari già da domani, anche loro saranno un pochino più tranquilli, un pochino sereni e si accorgeranno di avere fatto qualcosa di veramente importante per questa società, per il pubblico che è stato splendido, è stato fantastico, ci ha seguito, una cosa che dispiace di più, posso parlare a titolo personale, ma posso parlare a titolo di tutto il gruppo di lavoro, è stato fantastico soprattutto per 3.500 che ci hanno seguiti, che anche oggi sono stati fantastici fino alla fine, ci hanno sostenuto, molti di loro ci hanno seguito spesso in trasferta, solbarcandosi centinaia di chilometri e quindi si dispiace soprattutto per loro, però questa è la vita, questo è lo sport, a fronte di chi vince ha la possibilità di esultare, c'è chi perde e deve rammaricarsi, però fortunatamente lo sport insegna anche che tante volte anche chi perde esce vincitore e noi lo siamo, perché non usciamo vincitori da questa partita qua, ma usciamo vincitori da questo campionato che ci ha visto effettivamente giocare sempre e soprattutto avere una continuità che io ricordo poco, sinceramente le squadre ne ho allenate tante, ma una squadra così continua, dal punto di vista dei risultati ne abbiamo avuto veramente pochi e questa qua è una di queste, quindi i ragazzi devono essere passati all'amarezza, devono essere orgogliosi di ciò che hanno fatto, così come devono essere orgogliosi tutti i componenti del nostro staff che hanno lavorato in modo splendido, lo staff medico noi l'abbiamo fatto in silenzio, avevamo i nostri problemi, li abbiamo avuti tutto l'anno, siamo arrivati qua, oggi abbiamo giocato con la disponibilità di tutti i giocatori, proprio perché il nostro staff sanitario assieme al professor Colombini hanno fatto un lavoro enorme e fantastico per mettersi in condizione di avere sempre i giocatori disponibili, e questo è una bella base per poter lavorare.